E' stata battezzata Just Beach, l'app che a portata di click permette ai bagnanti di avere subito tutte le informazioni per andare in spiaggia in sicurezza. E' stata ideata dalla società Smart, una start-up innovativa creata da imprenditori salernitani che hanno subito colto la necessità in questo periodo di limitazioni per l'emergenza Covid di creare un ponte tra la tecnologia e le esigenze dei bagnanti per fruire in sicurezza ed in modo comodo di una struttura turistica. Un'app che permette in maniera semplice ed intelligente di verificare e prenotare un ombrellone, un asdraio, un posto in spiaggia, scoprire i servizi offerti e i costi così come ci racconta Linda Spampanato, fondatrice della società Smart. Abbiamo cercato di anticiparci un pochino su quelle che potevano essere poi le disposizioni nazionali e regionali e quindi abbiamo prodotto, è già online, un'applicazione che si chiama Just Beach e che consente a tutti di visualizzare negli stabilimenti preferiti quanti ombrelloni liberi sono rimasti e quanti presenti ci sono nella struttura, in modo da cercare di prenotare anche online volendo. Chiaramente questo richiede l'adesione del gestore perché noi abbiamo potuto caricare i nominativi e gli indirizzi affinché comparissero sulla mappa perché sono dati pubblici, però per comunicare il numero di ombrelloni e dare la possibilità di promuovere i servizi e prenotare online abbiamo bisogno chiaramente di una risposta dei gestori che ci mandino queste informazioni. L'idea è quella di pubblicare anche volendo, chiaramente non è una cosa imposta, il prezzo dell'ombrellone con due lettini o del singolo lettino e consentire all'utente di pagare anche online in modo da arrivare alla struttura già con un'assegnazione. Diciamo che appunto anche quella fila alla cassa che si fa per pagare e richiedere il numero di ombrellone chiaramente sarà assolutamente evitata e soprattutto si evita anche il tempo perso e le presentazioni a vuoto perché spesso ci capita, è capitato a tutti, di regarsi allo stabilimento preferito e poi trovare che è pieno, quindi doversi spostare nuovamente per cercarne un altro. Anche perché al telefono nei periodi di piena chiaramente non è che si rispondono molto velocemente per necessità lavorative, per cui in questo modo anche con una chat diretta con una persona delegata che abbiamo creato all'interno con un link whatsapp fondamentalmente è possibile chiedere qualche informazione rapida senza telefonare.